Prima in provincia e seconda nelle Marche. È la disciplina sportiva del Pickleball che arriva a Marotta nel comune di Mondolfo. Questo tipo di sport nasce in America nel lontano 1965 e rielabora alcune tecniche e regole del tennis. Si può giocare in due o quattro persone con delle racchette speciali e palline in plastica dura. A prendere parte al gioco anche il primo cittadino che si è concesso una breve partita. A spiegare nel dettaglio questo sport oggi molto praticato dagli americani e da pochi anni arrivato anche in Italia è il presidente dell'ASD Antonio Caraffa, uno dei 22 istruttori di Pickleball presenti in tutto lo stivale. Abbiamo preso questa qualifica a Milano da una professionista americana della PPR, Pickleball Associazione Internazionale. Questo è uno sport che si sviluppa dal tennis, poi ha la caratteristica di avere racchette molto leggere che derivano un po' dal ping pong. Quindi è nato come disciplina per gli sportivi ma soprattutto riabilitativa. Da qui si è sviluppata naturalmente anche su una forma da professionista. In America ci sono 3 milioni che proprio vivono con questa disciplina. Vivono semplicemente un gioco molto semplice, si batte, si risponde, si giocano le volete, gli smash come nel tennis e ci si diverte. Il punteggio funziona un po' come nel ping pong, si arriva agli undici. C'è il cambio palla come la vecchia pallavolo, quindi il punto lo fa solo chi serve. E poi è veramente aperto a tutti, fino agli agonisti che vogliono fare una partita veramente seria. Questo è il primo campo, è la prima ASD a livello nazionale. Si può prenotare il campo, si può venire qua a giocare e poi ci sono io insieme ad altri istruttori che vi insegneremo come giocare e darvi le prime basi. Il campo realizzato con piastrelle di prolipolene ammortizzate, antitrauma, si trova a lungo Viale Carducci, a ridosso della zona mare e sarà operativo fino a settembre. Innanzitutto ci teniamo a ringraziare l'amministrazione nella figura del sindaco e dell'assessore perché ci hanno dato l'opportunità, credendo da subito in questo progetto, di poter realizzare questa arena dedicata a questo sport nuovissimo che è il Pickable. Abbiamo per questo proprio istituito, costituito anzi un'associazione sportiva dedicata a tutti perché questo è uno sport aperto veramente a tutte le età, da piccoli a grandi. È uno sport tra virgolette facile che però come tutti gli sport ha le sue regole, le sue peculiarità. In effetti siamo organizzati con dei maestri di Pickable che hanno fatto già dei corsi a Milano il mese scorso e andremo anche nei prossimi mesi altri ragazzi a fare corsi per poter insegnare questo sport che è veramente divertente, nuovo e coinvolgente.